è fresca e rosea ha dei grandi occhi oh com'è bella le hanno poi messo un vestitino che le va così bene l'ho sollevata fra le mie braccia l'ho fatta sedere sulle ginocchia l'ho baciata sui capelli intanto lei mi guardava con aria stupita carezzata, abbracciata, divorata di baci lasciava fare ma gettando ogni tanto uno sguardo inquieto alla balia che piangeva in un angolo Maria, l'ho detto, mia piccola Maria e l'ho stretta violentamente al petto gonfio di pianto lei ha lanciato un piccolo grido oh signore mi fate male, mi ha detto signore è ormai un anno che non mi vede povera bambina e mi ha dimenticato viso, voce e accento e poi, chi mai mi riconoscerebbe con questa barba questi abiti e questo pallore e che sarei già dunque scomparso da questa memoria la sola in cui avrei voluto vivere ancora non sono già dunque più padre condannato a non sentire più questa parola questa parola della lingua dei bimbi così dolce che non può restare in quella degli uomini sentirla una volta da questa bocca una volta soltanto ecco tutto quello che avrei chiesto in cambio di quarant'anni di vita che mi si prendono ascolta Maria le ho detto stringendo le sue piccole mani nelle mie davvero non mi conosci? lei mi ha guardato con i suoi begli occhi e ha risposto oh no, per davvero guarda bene, le ho ripetuto ma come, tu non sai chi sia? sì, ha detto un signore ah, non amare ardentemente che è un unico essere al mondo amarlo con tutto il proprio amore e averlo davanti a sé che vi vede e vi guarda, vi parla e risponde e non vi riconosce non desiderate di essere consolato che da lui mentre lui solo non sappia che ne avete bisogno perché andate a morire Maria ho ripreso tu hai un papà sì, signore, ha detto la bimba oh, e dov'è allora? lei ha alzato i suoi grandi occhi stupiti ah, voi dunque non lo sapete poi ha strillato per poco, infatti, non l'avevo lasciata cadere morto dicevo Maria ma sai che cosa vuol dire morto? sì, signora, ha risposto vuol dire che è nella terra e nel cielo e ha continuato da sola io prego il buon Dio per lui mattino e sera sulle ginocchia della mamma l'ha baciata sulla fronte Maria dimmi la tua preghiera non posso, signore una preghiera non si può dirla durante il giorno venite a casa mia stasera e ve la dirò era abbastanza e l'ho interrotta Maria io sono il tuo papà ah, mi ha detto ho aggiunto vuoi che sia io il tuo papà? la bimba si è girata no il mio papà era molto più bello l'ho coperta di baci e di lacrime lei ha cercato di liberarsi dalle mie braccia gridando mi fate male con la vostra barba? allora me la sono rimessa sulle ginocchia covandola con gli occhi ho ripreso a interrogarla Maria sai leggere? sì ha risposto so leggere benissimo me lo ha insegnato la mamma vediamo allora legge un po' le ha detto indicandole un foglio che teneva accortocciato su una delle sue manine ha scosso la testa eh non so leggere che le favole ma su prova lo stesso su leggi lei ha spiegato il foglio e si è messa a compitare con il suo dito si e n sent e n senten sentenza l'ho strappato di mano era la mia sentenza di morte che mi leggeva non ci sono parole per quello che provavo la mia violenza l'aveva spaventata quasi quasi piangeva all'improvviso mi ha detto restituitemi il mio foglio è mio e lo voglio per giocare l'ho riconsegnata alla balia portatela via e sono caduto sulla sedia maestro cupo e disperato ora loro dovrebbero venire non mi importa più di niente l'ultima fibra del mio cuore è spezzata sono buono per quello che stanno per fare tutto sommato il prete è buono anche per il gendarme credo che quando loro ho detto che mi avevano portato mia figlia abbiano versato qualche lacrima è fatto ora bisogna che mi erroda in me stesso e che pensi fermamente al boia alla carretta ai gendarmi alla folla sul ponte alla folla sul viale alla folla alle finestre e a quello che ci sarà espressamente per me su quella lugubre piazza di Grave che potrebbe essere selciata di tutte le teste che ho visto cadere credo di avere ancora un'ora per abituarmi a tutto questo e tutta quella gente riderà batterà le mani applaudirà e tra tutti quegli uomini liberi e conosciuti ai poliziotti che corrono pieni di gioia a un'esecuzione in quella marea di teste che coprirà la piazza ci sarà più di una testa predestinata che presto o tardi seguirà la mia nel cesto rosso più d'uno che viene per me verrà per sé per questi esseri fatali c'è su un certo punto della piazza di Grave un luogo fatale un centro d'attrazione una trappola che si vigilano intorno finché non vi restano presi la mia piccola Maria hanno riportata a giocare osserva la folla dalla portiera della carrozza e non pensa già più a questa signora forse avrò ancora il tempo per scrivere qualche pagina per lei perché un giorno la possa leggere tra quindici anni piangere per oggi sì bisogna che sappia da me la mia storia e perché il nome che le lascio gronda di sangue la mia storia da una stanza del palazzo municipale dal palazzo municipale è così che ci sono arrivato l'esecrabile viaggio è fatto la piazza è là e sotto la finestra c'è l'orribile folla che abbaia e mi aspetta e ride ho avuto un bel rodermi un bel rabbrividire il cuore mi è mancato quando ho visto al di sopra delle teste quei due brazi rossi con il loro triangolo nero in cima rizzati tra le due lanterne della piazza il cuore mi è mancato e ho chiesto di poter fare un'ultima dichiarazione mi hanno messo qui e sono andati a cercare qualche procuratore del re lo aspetto è tutto tempo guadagnato ecco dunque suonavano le tre quando sono venuti ad avvertirmi che era ora ho tremato come se da sei ore da sei settimane da sei mesi avessi sempre pensato a tutt'altra cosa mi ha fatto l'effetto di qualcosa di improvviso e inatteso mi hanno fatto attraversare i loro corridoi e discendere le loro scale e mi hanno spinto al di là di due battenti a pian terreno in una sala sudice e angusta e a malapena rischierata da un giorno di pioggia e di nebbia nel mezzo c'era una sedia mi hanno detto di sedermi e io mi sono seduto vicino alla porta e lungo i muri c'era in piedi qualche persona oltre al prete e ai gendarmi e c'erano anche tre altri uomini il primo il più grande e vecchio grasso e con la faccia rossa portava alla retningote un tricorno sformato era lui era il boia il servitore della ghigliottina gli altri erano i suoi servitori per lui appena seduto gli altri due mi si sono avvicinati da dietro come gatti poi all'improvviso ho sentito un freddo d'acciaio nei miei capelli e le forbici hanno cominciato a stridermi nelle orecchie i capelli tagliati come veniva cadevano a ciocche sulle mie spalle e l'uomo dal tricorno li spazzava via dolcemente con la sua grossa mano intorno si parlava a voce bassa c'era un gran rumore fuori come un fremito che ondeggiasse nell'aria all'inizio ho creduto che fosse il fiume ma dopo alcuni scoppi di risa ho capito che era la folla un giovanotto che scriveva a matita su un notes vicino alla finestra ha domandato a uno dei carcerieri come si chiamava quello che si stava facendo la toilette del condannato ha risposto quello ho capito che domani sul giornale ci sarà anche quello improvvisamente uno dei servitori mi ha tolto il maglione e l'altro mi ha afferrato le mani penzoloni me le ha rigirate dietro la schiena ed ho sentito i nodi di una corda girare lentamente intorno ai miei pugni vicini contemporaneamente l'altro mi scioglieva la cravatta la camicia di batista solo lembo che mi restava di quello che ero stato altre volte l'ha fatta esitare un momento poi si è messo a tagliarne via il collo a questa orribile precauzione alla sensazione dell'acciaio che mi sfiorava il collo mi sono tremate le braccia mi sono lasciato scappare un lamento soffocato la mano dell'esecutore è trasalita signore mi ha detto scusate vi ho fatto del male questi boia sono degli uomini molto gentili la folla di fuori urlava più forte l'omaccione dalla faccia bitorzoluta mi ha offerto da respirare un fazzoletto imbevuto di aceto grazie gli ho detto con la voce più alta che potevo è inutile sto benissimo allora uno di loro si è abbassato e mi ha legato i piedi con una corda fine e lenta che mi permetteva di muovere dei piccoli passi e che ha poi attaccata a quella delle mani poi l'omaccione mi ha gettato sulla schiena la veste e me ne sono annodate le maniche sotto il mento quello che c'era da fare era stato fatto allora il prete si è avvicinato con il suo crocifisso andiamo figlio mio mi ha detto i boia mi hanno preso sotto le accelle mi sono alzato camminato i miei passi erano molli e ondeggianti come se avessi avuto due ginocchia per gamba in quel momento la porta esterna si è aperta spalancata un clamore furioso e l'aria fredda e la luce bianca hanno fatto irruzione fino a me nell'ombra dal fondo della cella bruscamente ho visto contemporaneamente attraverso la pioggia le mille teste urlanti della gente ammucchiata che si urtava sulla scalinata del palazzo a destra a pian terreno una schiera di centrarmi a cavallo di cui la porta bassa non mi lasciava vedere che gli zoccoli e il petto di fronte un trappello di soldati intenuta da campagna a sinistra la parte posteriore di una carretta alla quale era appoggiata una scala orribile quadro ben incorniciato nella porta di una prigione era per quel momento temuto che io avevo conservato il mio coraggio ho fatto tre passi e sono comparso sulla soglia eccolo eccolo ha gridato la folla esce finalmente e quelli che mi erano vicini battevano le mani per quanto si ami un re gli si farebbe meno festa era una carretta delle solite con un cavallo tisico e un carrettiere con una veste blu a disegni rossi come quella degli ortolani dei dintorni di Bissetre l'omaccione con il cappello a tricorno è salito per primo buongiorno signor Sansone gridavano alcuni ragazzi arrampicati a delle inferriate un servitore l'ha seguito bravo Mardì hanno gridato di nuovo i ragazzi entrambi si sono seduti sul sedile davanti ora toccava a me sono salito con un portamento abbastanza sicuro va bene però ha gridato una donna vicino ai gendermi quell'atroce elogio mi ha dato coraggio intanto il prete è venuto a mettermi si vicino mi avevano fatto prendere posto sul sedile di dietro con la schiena rivolta al cavallo e questa estrema attenzione mi ha fatto fremere ci mettono dell'umanità da dentro ho voluto guardarmi in giro gendarmi davanti e gendarmi dietro e poi folla 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 un mare di testa infinito su tutta la piazza un picchetto di gendarmeria a cavallo mi aspettava il cancello del palazzo municipale l'ufficiale ha dato un ordine la carretta e il suo seguito si sono mossi come spinti in avanti dall'urlio della folla abbiamo passato il cancello nel momento in cui la carretta si è diretta verso il ponte del cambio la piazza è scoppiata in un grido dai tetti della strada e i ponti e i viali hanno risposto facendo tremare la terra è là che il picchetto che aspettava si è riunito alla scorta giù i cappelli giù i cappelli gridavano mille voci insieme come per il re allora ho riso orribilmente anch'io e ho detto loro i cappelli io ho la testa si andava al passo era giorno di mercato il viale dei fiori profumava tutto e i mercanti lasciavano i loro cestini per venirmi a vedere di fronte un po' oltre la torre quadrata che forma l'angolo del palazzo di giustizia ci sono delle osterie e tutte le loro finestre erano piene di spettatori felici dei loro bei posti soprattutto di donne per gli osti doveva essere un'ottima giornata si affittavano tavole sedie palchi carretti ogni cosa e dei mercanti di sangue umano gridavano a squarciagola chi vuole dei posti allora mi ha preso una terribile collera contro quella folla e mi è venuto voglia di gridare chi vuole il mio e intanto la carretta avanzava a ogni passo che faceva la folla le si rovesciava dietro e la vedevo con gli occhi sbarrati andare a fermarsi di nuovo più lontano su un altro punto del mio passaggio entrando sul ponte del cambio ho gettato per caso gli occhi alla mia destra lo sguardo mi si è fermato sull'altro viale al di sopra delle case su una torre nera isolata piena di sculture in cima alla quale scorgevo due mostri di pietra seduti di profilo non so perché ho chiesto al prete che torre fosse Saint-Jacques de Boucherie ha risposto il boia non so come accadesse nella nebbia e malgrado la pioggia fine e insistente che rigava l'aria come una rete di fili di ragno niente di quello che mi passava vicino mi è potuto sfuggire e ogni particolare mi portava la sua tortura verso la metà di questo ponte del cambio così largo e così ingombro che ci camminavano a malapena l'orrore mi ha preso violentemente e ho avuto terrore di venire meno estrema vanità allora mi sono chiuso in me stesso per essere cieco e per essere sordo ad ogni cosa tranne che al prete del quale sentivo appena le parole interrotte dai rumori ho preso il crocifisso e l'ho baciato abbiate pietà di me ho detto oh mio dio e ho cercato di inambissarmi in questo pensiero ma ogni scossa della dura carretta mi riscuoteva poi all'improvviso ho sentito un gran freddo la pioggia aveva attraversato i miei vestiti e mi bagnava la pelle della testa attraverso i corti capelli tagliati tremate di freddo figlio mio mi ha chiesto il prete sì ho risposto ahimè non solo di freddo in fondo al ponte delle donne mi hanno compianto di essere così giovane avevamo preso il viale fatale cominciavo a non vedere e a non capire più niente tutte quelle voci tutte quelle teste alle finestre alle porte alle inferriate delle botteghe ai bracci delle lanterne quegli spettatori avidi e crudeli quella folla in cui tutti mi conoscevano e dove io non conoscevo nessuno quella strada lastricata e murata di visi umani era vuoto stupido insensato il peso di tanti sguardi puntati su di voi è qualcosa di terribile ed insopportabile vacillavo sul sedile inebetito nel tumulto che mi fasciava non distinguevo più le grida di pietà dalle grida di gioia le risa dai pianti le voci dai rumori era un unico immenso rombo che mi risuonava in testa i miei occhi leggevano meccanicamente le insegne delle botteghe a un certo punto mi prese la strana curiosità di girare la testa e di guardare verso cosa avanzassi era un'ultima bravata dell'intelligenza ma il corpo non vuole e la nuca mi restò paralizzata e come già morta intravidi solo a sinistra al di là del fiume la torre di Notre Dame che vista di là nasconde l'altra era quella dove c'è la bandiera c'era molta gente e che doveva vedere bene e la carretta andava andava e le botteghe passavano e le insegne succedevano scritte dipinte dorate e il polpaccio rideva e pestava i piedi nel fango e la carretta andava andava e le botteghe passavano e le insegne si succedevano scritte dipinte dorate e il popolaccio rideva e pestava i piedi nel fango io mi lasciavo andare come ai loro sogni quelli che dormono all'improvviso la serie di botteghe che occupava ai miei occhi si è troncata all'angolo di una piazza la voce della folla è diventata più vasta più acuta più gioiosa ancora la carretta si è fermata bruscamente e per poco non mi ha fatto cadere con la faccia sul pianale il prete mi ha sostenuto coraggio ha mormorato allora hanno portato una scala dietro la carretta lui mi ha dato il braccio e sono sceso poi ho fatto un passo poi mi sono girato per farne un altro e non ho potuto fra i due lampioni del viale avevo visto un'orribile cosa oh era la realtà mi sono fermato come se facci lasci già sotto il colpo ho da fare un'ultima dichiarazione ho gridato debolmente mi hanno fatto salire qui ho chiesto che mi lasciassero scrivere le ultime volontà mi hanno slegato le mani ma la corda è qui sempre pronta e il resto è di sotto è arrivato una specie di giudice o commissario o magistrato che sia gli ho chiesto la grazia a mani giunte traccinandomi sulle ginocchia e lui mi ha risposto con un sorriso fatale se era tutto là quello che avevo da dirgli la grazia la grazia ho ripetuto per pietà ancora cinque minuti chissà potrebbe anche arrivare è così orribile alla mia età morire in questo modo i grazie che arrivano all'ultimo momento se ne sono viste spesso e a chi si farà la grazia signore se non a me quell'esecrabile boia si è avvicinato al giudice per dirgli che l'esecuzione andava fatta a una certa ora e che questa ora si avvicinava e che lui era il responsabile che del resto pioveva e quella faccenda rischiava di arrugginirsi per pietà un momento per attendere la mia grazia o io mi difendo io mordo il giudice e il boia sono usciti sono solo solo con due gendarmi oh quel maledetto popolaccio con le sue grida di iena chissà se non gli scapperò se non sarò salvato e la grazia impossibile che non mi si faccia la grazia ah immiserabili mi sembra che salgano le scale le quattro e la grazia la grazia la grazia